A Favara i carabinieri della sezione operativa del comando della compagnia di Agrigento hanno tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio una persona di 28 anni originaria di Agrigento con precedenti di polizia e già noto alle forze dell'ordine. Nella circostanza i militari impegnati in un serrato controllo del territorio hanno fermato e identificato il predetto trovandolo in possesso di 3 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed euro 6.490 in denaro incontante, somma ritenuta provento dell'attività illecita. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 500 grammi di marijuana, 90 grammi di assisi suddivise in dosi, un bilancino di precisione e materiale per il relativo confezionamento. Lo stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro unitamente alla citata somma di denaro, l'arrestato al termine delle formalità di rito come disposto dalla locale procura e la Repubblica di Agrigento è stata tradotta presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida nel corso della quale il CIP convalidava l'operato dei militari disponendo la misura cautelare dell'obbligo di dimora.